Un materasso Dorelan scandisce la qualità del nostro tempo, ci accompagna nella vita e dà valore ai suoi momenti. Vieni in negozio e scopri i saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Consegna e montaggio gratuiti solo nei negozi Dorelan fino al 12 febbraio. Dorelan. Dormire bene. Vivere meglio.